Ad amore, be di bacino, sei di corassone, dei di dorsino, e di scuola, e figli di fagione. G di gente, ragazzi umano, e di ugualdaggi. Allora, a carnevale c'è, si suona, è tutto, ci sono le ballerine. E poi ci sono le maracas, i suoni con le maracas. Ce l'ho io, ce l'hai tu. Mi chiamo Hera e vengo dall'Albania, ho nove anni, i miei genitori sono nati in Albania, e la mia città si chiama Durazzo. Da noi le feste, in particolare c'è solo il Capodanno, e si va in una pizzeria o in un ristorante, dove vengono dei cantanti famosi, ci cantano le canzoni e noi andiamo a ballare. Questa è la musica degli indiani d'America. Il presentiamo il metodo, solidato in Sicilia e Sardegna. L'autostrada torna un po' via, c'è stato un incidente! Ciao! A parte dell'attività principale che erano i lavoratori nelle scuole, i lavoratori sulla musica, ci sono state altre attività non solo rivolte alle scuole ma anche al pubblico in generale. Verrà anche organizzata una mostra di strumenti musicali dove saranno sposti degli strumenti provenienti di diverse culture di tutto il mondo. In questa mostra ci sarà incluso anche una parte dove si esporranno degli strumenti costruiti dai bambini nelle scuole dove si hanno realizzato i lavoratori. Un tipo di strumento molto particolare della Romania è il NAI, che è questo qua, perché praticamente si può costruire o di tubi oppure di canne. Sono nato in Marocco data 17 settembre 1998. C'era un ragazzo che aveva perso la sua fidanzata e non sapevo cosa fare. E poi alla fine, alla fine della canzone l'aveva trovata e così vi sero felice con te. Quando dobbiamo andare al Marocco, andiamo a Torino, compriamo dei vestiti e poi un giorno andiamo al Marocco e portiamo anche dei vestiti alla nostra famiglia. Ok, bravissimi! Va bene. Allora, il laboratorio è finito. Questo progetto che abbiamo fatto insieme sul Marocco è finito. Spero che vi sia piaciuto, che abbiate imparato delle cose nuove sui vostri compagni del Marocco. Ma no, ma però non facciamo più niente, abbiamo finito proprio. Mannaggia, mannaggia. Bravissimi. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Io mi chiamo Lorenzo. I miei genitori vengono dal Piemonte e quindi spesso, davvero, tutte le giornate parlano sempre in Piemontese. Allora, io sono italiana come tutta la mia famiglia, tranne mio nonno paterno e mia nonna paterna e mio nonno materno, che mio nonno è pugliese. Invece mia nonna era emiliana e tutti gli anni a Natale fai gli agnolotti emiliani. Andrea Florea. Quante anni hai? Sette. E di dove sei originario? Non lo so. Come non lo so? Prova su un apple. Forse a questo. E da te come si fa su un apple? Non lo so, a questo no, lo so. Quei nomi. Eh, io no. Oggi vi presentiamo il meteo. Scegliamo di andare a posto. Buona trasmissione. Buona stella. Buona stella. Oh ragazzi, ci vediamo. Wè?